Sono Anna, l'assistente digitale di Fineco. In questa videopillola vedremo come scegliere il tipo di operatività quando si opera in marginazione. Dal book di negoziazione, dopo aver inserito la quantità e la tipologia di ordine, a mercato o limite, potrai selezionare il tipo di operatività in marginazione che preferisci. Overnight se desideri tenere aperta la posizione per più di un giorno, oppure Intraday o Superleva se desideri chiudere la posizione in giornata. Con la modalità Superleva avrai una leva di 50 volte e uno Stop Loss automatico dell'1%. Sia nella modalità Intraday che in quella Superleva non vi sarà alcun costo per l'utilizzo di questo servizio, ad esclusione delle commissioni di esecuzione dell'ordine. Questo perché la posizione viene chiusa in giornata. Nel caso in cui scegliessi la modalità Overnight ci sarà un costo. Per le operazioni Long il tasso verrà applicato sul differenziale tra il controvalore dell'operazione e il margine impiegato. Per le operazioni Short il tasso verrà calcolato sull'intero controvalore della posizione. I tassi sono su base annua e si calcolano solo per i giorni in cui la posizione rimane aperta. Sia Overnight che Intraday potrai variare la leva scegliendo di aumentare o diminuire il margine impiegato. Aumentando il margine ridurrai l'utilizzo della leva, mentre diminuendolo aumenterai la leva per la tua operatività. Inserisci il PIN dispositivo e il tipo di operazione. Compra se pensi che il titolo salirà oppure vendi se pensi che scenderà. Vai su FinecoBank.com e scopri tutta la formazione su trading e investimenti. Corsi via web e video dedicati. Ti ringraziamo per aver scelto Fineco. FinecoBank.com